signori buongiorno buongiorno benvenuti benvenuti di nuovo carissimi chitarristi appassionati e gli utai prima di ogni altra cosa un ringraziamento da parte dell'associazione chitarra in per essere oggi presenti in questa sala a partecipare con noi a un momento di grandissima gioia per il mondo della chitarra classica come ben sapete siamo qui riuniti per celebrare un evento largamente annunciato il conferimento del premio alla carriera al maestro angelo gilardino che oggi ci onora con la sua cara presenza numerosi sono stati premi a lui attribuiti negli anni sia in ambito nazionale che internazionale la decisione di conferire questo ulteriore premio è stata presa in modo unanime nello scorso mese di maggio dal comitato scientifico della nostra associazione nelle persone del decano maestro bruno battisti da mario e dei maestri dei maestri luigi attatemo maestro fernando lepri maestro lucio madarazzo e ovviamente noi soci orga fondatori organizzatori del rome expo riteniamo che questo premio si debba differenziare da numerosi precedenti per essere anziché un premio un atto di ringraziamento e credo che un sentito grazie sorga spontaneo dal cuore di tutti i presenti in questa sala rappresentando la riconoscenza per quanto ricevuto grazie maestro non vi è un solo motivo per voler ringraziare i motivi sono più di uno e cercheremo di tracciarli senza dilungarci troppo e cercando di raccontare il perché del senso di gratitudine che proviamo tra gli altri motivi spicca primariamente l'impulso ininterrottamente dato alla crescita del repertorio della chitarra classica questo impulso è stato dato al maestro Gillardino in tempi diversi e con azioni diverse di tipo indiretto e indiretto come certamente sapete egli è stato concertista di elevatura internazionale nell'arco temporale che intercore tra il 1958 e il 1981 il primo contributo data alla crescita del repertorio è quello derivante dal fatto che durante il periodo della sua attività concertistica gli furono dedicate centinaia di nuove composizioni da autori di tutto il mondo composizioni che furono da lui presentate in prima esecuzione il maestro Gillardino fece dei suoi concerti per dirlo con le sue parole maestro una mostra vivente dei brani che li venivano dedicati il secondo grandissimo apporto è quello derivante dalla pluriannale attività svolta presso la fondazione segovia di linares come direttore artistico il maestro Gillardino ebbe infatti il privilegio di essere per scelto da don emilia la vedova di andrea segovia per riordinare il vastissimo archivio custodito in numerose casse i moltissimi brani eseguiti da segovia in concerto in incisione non era mai stata pubblicata la partitura ed oggi grazie a un lavoro durato anni tutto questo materiale è stato revisionato e pubblicato c'è da dire inoltre che andrea segovia aveva ricevuto nel corso degli anni da parte di molti compositori di tutto il mondo numerosissime composizioni scritte per lui e rimaste inedite e quindi l'intensa attività concertistica infatti non gli aveva mai consentito di dedicarvisi e per mancanza di tempo era stato costretto ad accantonare questo materiale oggi recuperato anch'esso grazie al lavoro del maestro Angelo Gillardino un terzo ulteriore fondamentale contributo del maestro Gillardino al repertorio è stato dato dall'attività di compositore in senso lato che si intreccia in parte anche con quello di didatta della chitarra l'elenco delle composizioni per chitarra sola per chitarra insieme di chitarre per orchestra è lunghissimo importanti registrazioni di queste composizioni sono state effettuate dai migliori strumentisti di quest'epoca non ci soffermeremo a citarli ma alcuni di questi grandi interpreti sono qui con noi per onorare con la loro presenza questo momento di omaggio al maestro Gillardino un quarto ulteriore apporto alla crescita del repertorio chitarristico è dovuta all'attività di ricercatore e musicologo brani dimenticati autori persi nel ricordo sono stati riportati in vita grazie all'incessante attività di ricerca vissuta come se fosse una meravigliosa avventura decidiamo due in particolare sappiamo che sono a lui particolarmente cari la lettura del libro autobiografico io la chitarra ed altri incontri ci ha fatto rivivere con fresca spontaneità le emozioni che hanno accompagnato il maestro Gillardino nella riscoperta dell'opera di Antonio José Martínez Palacio da Burgos autore dell'incancellabile sonata para chitarra morto fucilato durante la guerra civile spagnola all'alba dell'11 ottobre 1936 sulla causa delle sue idee socialiste e libertarie in quelle commoventi pagine maestro conversa affettuosamente col musicista prematuramente scomparso svelandoci il trasporto con cui affronta le sue attività di ricerca in un dialogo con i maestri del passato che supera la barriera del tempo le pagine dedicate a Ottorino Respighi scritte in forma di lettera al musicista sono anche il racconto di un viaggio pluriennale che portò il maestro Gillardino a rinvenire nell'archivio Mozzani un manoscritto autografo per chitarra 12 pezzi anche qui si narrano emozioni le emozioni della mente di un musicista dedito a cercare e ritrovare tesori dimenticati c'è tantissimo ancora da dire ma Gillardino ci ha narrato anche di una cosa su cui non desideriamo sorvelare il ricchissimo e stimolante rapporto di scambio con Mario Castelnuovo tedesco iniziato con una lettera pervenuta nel febbraio del 76 da Beverly Hills continuato negli anni fino a tutt'oggi fino al recente evento di presentazione a Montecitorio del libro a lui dedicato in occasione del cinquantenario della morte non desideriamo dilungarci ancora troppo ma ci sono altri due motivi di ringraziamento che non possiamo tralasciare quello inerente il didatta e quello relativo alla pluridecennale attività presso la casa editrice Berben Gillardino è stato da prima insegnante in ambito istituzionale e successivamente in corsi e masterclass in ambito internazionale e nazionale la intensa attività di didatta in lui si intreccia con quella di compositore anche se in questa esposizione abbiamo estrapolato alcuni aspetti di una personalità così ricca e articolata i due momenti si potenziano a vicenda chi si è cementato con gli studi di virtuosità e trascendenza sa di cosa stiamo parlando angelo girardino didatta ha inoltre il grande merito di non interferire con le soluzioni interpretative dei suoi allievi portandoli invece a scoprire quello che hanno dentro di sé ed occupandosi solo di gestire il loro processo di formazione e fornire l'aiuto necessario a rimuovere le incertezze avvallando anche in soggetti diversi interpretazioni differenti dello stesso brano per questa scelta didattica i concertisti che sono stati allievi del maestro girardino non sono chi terrissi fotocopia e anche questo è un ulteriore motivo di riconoscenza non è possibile concludere questo atto senza citare l'instancabile attività di editor musicale svolta presso la casa di drice berben dal 1967 ad oggi e senza dire del grande piacere che ci ha dato la lettura dei numerosi libri scritti dal maestro girardino due in particolare sono i nostri prediletti il primo di cui abbiamo già accennato è il bellissimo libro a carattere autobiografico io la chitarra ed altri incontri in memoria di un artista 14 lettere indirizzate a persone importanti nella sua vita e il secondo ricchissimo di notazioni ed aneddoti è la chitarra a lezioni private guido all'ascolto del repertorio da concerto che ci ha spinto all'ascolto di alcuni autori che avevamo trascurato anche di questi libri maestro porgiamo ringraziamento porgo ora la parola al maestro luigi attademo per la lettura delle motivazioni grazie rubo 60 secondi alla lettura delle motivazioni perché sono in una posizione privilegiata qui ci sono tanti allievi di diverse generazioni di angelo gillardini ognuno di noi potrebbe raccontare molte cose voglio dire solo due piccole cose che non sono contenute nelle motivazioni che però per me hanno un certo valore hanno avuto un certo valore nel magistero di angelo gillardino innanzitutto la prima cosa è che mi ha sempre stimolato a guardare prima la musica e poi lo strumento con cui io la realizzavo e non posso dimenticare sono molto forti queste immagini momenti in cui a casa sua generosamente prendeva un disco in vinile lo metteva sul piatto e svelava all'epoca a me diciottenne interpreti che a me erano in quel momento ignoti che poi sarebbero diventati comunque diciamo direttamente dei maestri indicare questa strada proprio in modo maieutico di questo gli sono veramente molto grato l'altra cosa è che mi ha sempre insegnato in tutte le cose non solamente relativa alla musica ma anche a non essere volgare e io ho cercato sempre di applicare questo questo principio anche umanamente adesso passo alla alla motivazione alle motivazioni premio roma expo guitars alla carriera al maestro angelo gillardino compositore musicologo didatta motivazioni per aver segnato una nuova linea nello sviluppo della composizione per chitarra rinnovando la tradizione dei grandi chitarristi compositori e il linguaggio dello strumento creando una nuova poetica della chitarra e indagando dimensioni sonore ancora inesplorate per aver contribuito a illuminare la storia della chitarra con le sue ricerche i suoi contributi musicologici per aver curato la pubblicazione di opere inedite del repertorio chitarristico in particolare con la collana dell'archivio segovia recuperando parte di un importante patrimonio musicale che altrimenti sarebbe andato perduto per aver tracciato una nuova frontiera nella didattica italiana con la stesura di un trattato che ha rivoluzionato le idee tecnico strumentali fino ad allora prevalenti per aver motivato e seguito nel loro percorso durante circa 50 anni di insegnamento centinaia di talenti che hanno potuto intraprendere carriere anche di elevatura internazionale per aver stimolato da interprete la nascita di un nuovo repertorio di musica contemporanea scevro da pregiudizi e per averne determinato la diffusione per aver considerato la chitarra uno strumento uno strumento tra gli altri e la musica al di sopra di tutto per aver guardato dove non guardava nessuno ovviamente invitiamo sul palco il maestro angelo ginardino grazie 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 quest'anno le emozioni sono tante ora inviterei il direttore filippo michelangeli direttore di suonare news e sei corde qui sul palco per consegnare la targa del premio alla carriera in questo bellissimo momento ora noi lasciamo liberiamo il palco e lasciamo il maestro gilardino e filippo michelangeli per un loro scambio per una loro diciamo chiacchierata facciamo diciamo il maestro qui e allora la parola assolutamente intanto congratulazioni io dovrò darti del tu perché ci conosciamo da moltissimi anni trovo emozionante e curioso dare un premio alla carriera proprio a te che di tutti i musicisti e i chitarristi che io conosco è quello che meno di tutti ha cercato e ha voluto fare carriera se l'hai fatta e l'hai fatta è stata tua insaputa perché ti sei dedicato anima e corpo e oggi è accaduto che invece questo riconoscimento nazionale internazionale è arrivato allora volevo chiederti vieni hai raccontato nel tuo libro che molti di noi hanno letto le tue origini figlio di un mercante di cavalli di una madre che ha allevato due ragazzi te primo genito e sergio come ha impattato con lo strumento che di fatto ha cambiato la tua vita è stato in effetti un impatto perché non c'è stata alcuna preparazione e nessun preannuncio all'incontro con la chitarra che è stato anche l'incontro con la musica le due entità non si sono rivelate separatamente o gradualmente può accadere di scegliere di diventare pianista dopo aver ascoltato un concerto sinfonico invece nel caso mio la conoscenza della musica che mi era del tutto aliena e la conoscenza della chitarra sono avvenute nello stesso evento contemporaneamente l'11 aprile del 1951 a modena quando credendo di andare ad assistere a un film alla proiezione di un film in realtà entrai in un luogo dove si sarebbe svolto un concerto quella in effetti era una sala cinematografica una sala polivalente nella quale quella sera si sarebbe svolto non la proiezione di un film ma un concerto di cui ignoravo tutto e io ricordo ancora quell'evento come se fosse ieri sera su palco salì una donna bellissima con una lunga chioma corvina e un vestito a gonna ampia color acqua marina e incominciò a suonare e dopo pochi minuti la mia vita era cambiata era eri da presti in un'epoca di specializzazione fortissima dove ci sono interpreti che si specializzano nel barocco, nell'ottocento, nella musica contemporanea, nella cameristica tu rappresenti una eccezione curiosissima anche qua chitarrista prima, compositore, didatta, storico della chitarra, autore di saggi, conferenziere se non inteso male qui ci sono tanti amici liutai forse l'unica cosa in cui non ti sei cimentato è nel costruire una chitarra però sicuramente sei stato vicinissimo alla liuteria perché hai pubblicato libri importanti saggi e liutai li hai frequentati diciamo e hai irrorato la tua energia anche lì in tutte queste dimensioni di solito si dice artista eclettico e c'è il gusto dell'iperbole qui è veramente per diminuzione perché tutto hai fatto e tutto a livelli di eccellenza internazionale in quale dimensione tra tutte ti riconosci di più? in ogni momento della giornata in cui ci si dedica credo che sia esperienza comune questa a un lavoro che non è stato imposto che è stato scelto si sente, si avverte il primato di quel lavoro in quel momento quando compongo mi domando perché ho fatto anche qualcos'altro ma quando in una biblioteca di provincia tiro fuori da un mucchio di vecchi scartari dei fogli ingialliti e riconosco prima ancora di leggere il nome la calligrafia musicale di Ottorino Respighi mi domando perché mai io non abbia dedicato l'intera mia vita a quel tipo di ricerca abbia fatto anche qualcos'altro ogni aspetto del fare musica al di là delle sue competenze delle competenze specifiche che richiede del sapere accuminato che richiede in ogni aspetto della singola disciplina c'è qualcosa di unico, di essenziale e di impagabile che colma quel momento e lo rende insostituibile quindi come musicologo sono un musicologo della domenica rispetto a quelli che hanno fatto hanno seguito una formazione però Troia l'ha scoperto un dilettante, Schliemann e non gli archeologi di professione come compositore non ho scritto un'opera delle sinfonie eccetera perché non erano necessarie però ho impiegato la chitarra per esempio con l'orchestra in un modo che non sarebbe stato accessibile a quei grandi compositori dai quali io sarei stato un epigono se avessi scritto per orchestra capisci? La produzione di opere nuove che hai fatto è molto ampia si può dire oggi ha ben diritto che sia un autore prolifico ha scritto moltissimo per chitarra sola 17 opere per e con chitarra che avendo la chitarra con l'orchestra hanno anche messo all'attenzione della comunità musicale italiana e internazionale che di solito guarda poco verso il nostro strumento invece in questo caso si sono dovuti avvicinare anche a loro e poi tante altre cose oggi che sei qui è una specie di compendio di tutta la tua lunga e speriamo ancora lunghissima attività creativa hai voglia di dirci qui davanti alla comunità chitarristica quali sono le opere che hai scritto a cui sei più affezionato e che chiudendo gli occhi immagini che possano resistere di più al tempo a essere imporsi nei prossimi secoli? non te lo posso dire con occhio critico un occhio del quale ovviamente non dispongo te lo posso dire in termini così quasi visionari, profetici ecco vorrei dire alcuni studi della terza raccolta della terza serie degli studi non so, Trenodia, l'omaggio a Pizzetti la Passacaglia, l'omaggio a Rispighi Embarcament pour Citer l'omaggio a Jean-Antoine Watteau nella prima serie forse l'Elegia di Marzo l'omaggio a Jimenez la seconda sonata nel campo della musica per chitarra perché sono quei pezzi che io stesso qualche volta ascolto con una certa sorpresa mentre invece gli altri ho l'impressione che sapendoli non hanno più niente da dirmi immagino che sia così anche per gli ascoltatori punterei invece maggiori aspettative sulla resistenza nel tempo di alcuni concerti per chitarra e orchestra specialmente gli ultimi due che ho scritto il concerto del Sepeitos per due chitarre e orchestra che ho scritto per Aniello e per Lucio e il concerto per flauto, chitarra e orchestra intitolato Concerto di Ventotene ecco, io credo che in queste opere sono riuscito a spremere tutto quello che avevo dentro in un'operazione che sebbene si tratti di opere di una certa ampiezza posso definire sintetica perché non ho lasciato fuori niente e perché quello che non è rimasto fuori non è rimasto inespresso è venuto fuori nel modo più forte, più diretto cioè al di là delle competenze dell'orchestrazione del contrapunto della costruzione formale eccetera si ritrova poi in grado più o meno evidente più o meno marcato un qualche cosa di assolutamente primitivo di viscerale il compositore che riesce a farcela è quello che al di là delle tecniche sa scavare dentro di sé fino a far uscire qualcosa che è del tutto istintivo vorrei dire animalesco io vorrei stare ancora più a lungo ma c'è spazio per un concerto solo ancora due domande e poi ascolteremo Sagese che farà un bellissimo concerto hai scoperto o riscoperto composizioni che si davano perduto di cui signorava l'esistenza quelle che tutti noi chitarristi conosciamo e che abbiamo dell'immaginario ormai che sono diventate di repertorio primeggia la sonata di Cosè le variazioni di Respighi il concerto di Asafi e tutto l'archivio Segovia 2 chiamiamolo diciamo quello arrivato dopo che cosa accade quando un compositore come te scopre o riscopre un'opera di un collega? corrispondenza d'amorosi sensi i sepolcri ecco celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi cioè si apre una finestra sul passato che si proietta anche nella stessa misura verso il futuro si entra a respirare aria di eterno capisci? ecco ecco io per concludere vorrei parlare di un tuo collega di cui quest'anno è stato già richiamato nell'introduzione di Di Coste quest'anno è il cinquantenario della morte di Marekos tedesco che è un compositore che ha scritto anche per chitarra ma in realtà ha 200 numeri d'opera di tutto e però è toccato a un chitarrista il maestro Gillardino recuperarne in una biografia che si legge di un fiato perché è avvincente la storia e siccome noi chitarristi veniamo rimproverati a volte di aver bisogno dell'imbeccata di altri per darci stimolo io vorrei ricordare con orgoglio e qui mi unisco al coro dei ringraziamenti che in realtà in questo diciamo in questa occasione siamo stati noi a mettere la bandierina su questo cinquantesimo anniversario di un compositorio importante poco conosciuto perché ha dovuto emigrare negli Stati Uniti per via delle leggi razziali e quindi vorrei vorrei ringraziarti perché questo è merito di un chitarrista compositore che ha ritrovato in un collega più anziano una fonte di ispirazione ma a proposito di ispirazione Castellano Tedesco che tutti noi conosciamo perché ha scritto un centinaio di opere per chitarra o comunque con chitarra ha scritto anche altro eppure la mia sensazione lo dico con orgoglio del chitarrista ma anche come dato fattuale ho l'impressione che le opere per chitarra abbiano sempre una marcia in più e che quindi forse le sei corde avessero per questo grande tuo collega del passato una fonte di ispirazione siccome anche tu hai dedicato tutta la tua vita produttiva alla chitarra è quello il punto in comune che avete fra di voi? Sicuramente e ti riferisco le sue parole se non proprio ad una ad una testualmente di sicuro con fedeltà per quello che riguarda i sensi e significato nella prima lettera che mi scrisse lui disse io amo la chitarra perché la chitarra è la verità con il pianoforte con la sua retorica la sua ricchezza con i grandi colori dell'orchestra se uno è bravo istruito si può anche usò proprio questa espressione darla a bere ma con la chitarra bisogna essere veri è secondo me un artista che non punta all'espressione diretta veritiera completamente priva di retorica e di inclinazione verso dimostrare qualcosa che non c'è la vita è già un fallimento questo è nuovo tedesco al di là delle pressioni veramente incombenti che gli rivolgeva Segovia ecco scelse la chitarra perché era per lui un obbligo all'essenzialità e quindi la garanzia della verità bene allora io mi fermo qua ringrazio Gilardino se mi consentite vorrei unirmi al coro polifonico in questo caso di ringraziamenti facendotene anche io uno che non riguarda quello che è fatto per me o per la mia attività ma riguarda quello che è fatto per i giovani allora di solito la retorica è largo ai giovani sappiamo benissimo che non è così perché i giovani sono più in difficoltà perché non hanno nome perché devono imporsi perché è una scommessa ogni volta credere in un giovane io per i giovani intendo proprio pulcini adolescenti tardo adolescenti se c'è qualche cosa in cui ho imparato oltre mille altre cose belle che mi ha insegnato però è l'entusiasmo e la fiducia genuina e autentica verso i più giovani quindi vorrei vorrei ringraziarti e chiamare proprio un fortissimo applauso grazie a tutti grazie vorrei dire doverosamente e anche molto volentieri una parola riguardo all'evento al quale stiamo per assistere molto spesso anzi quasi sempre la musica che io ho scritto l'ho scritta a richiesta di uno o più esecutori che sono stati poi anche i dedicatari e i rivelatori delle specifiche composizioni in pubblico doveva essere qui oggi per eseguire questa sonata lettera a Friedrich il suo committente il suo committente e dedicatario il grande chitarrista polacco Lukasz Kropaczewski che purtroppo per ragioni di salute manifestatisi improvvisamente con dei disagi voglia il cielo che non siano che siano solamente passeggeri non ha potuto esserci e io ho assistito a qualche cosa a cui nonostante la mia lunga navigazione nel mondo della musica non solo della chitarra stento ancora a credere cioè che una sonata di queste dimensioni di questo impegno venga eseguita oggi da Cristian Sagese che io non non definisco più mio allievo perché a questo livello di maestre ne può avere solo uno ecco e e e costui l'ha imparata in meno di due settimane stento a crederci Allora il maestro Cristian Sagese eseguirà tre brani lasciando per ultimo la sonata del maestro Girardino inizierà con di Chopin con il preludio opera 28 numero 20 e con il vals opera 69 numero 2 seguirà poi di Alexander Tasman preludio da omaggio a Chopin e chiuderà con la sonata lettera a Fredrick del maestro Angelo Girardino a questo punto farei un grandissimo applauso al maestro Sagese e lo accogliamo in sala grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.